Quindi facciamo i seri Non si parla, si parla solo per cose Facciamo i seri, una partita sola voglio i seri Almeno una partita stessa dobbiamo fare i seri Vabbè fa niente Luca Deu Ferri L'arbitro dunque lascia giocare Giusto, concesso il vantaggio Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio Che taglia tutto il campo Passaggio sbagliato, palla in out Intervento tempestivo del difensore Che intercetta il passaggio Passa, basta sui Palla che finisce fuori Ma che parata ha fatto Pierre Pazzesco, da rivedere e rivedere ancora Ah bravo Luca c'è Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio Mi raccomando i centrocampisti Soprattutto Dario Tu che non so se hai giocato tutti e unici Mi raccomando non salire troppo Guardati con gli altri No dico in generale Non so Critico Ok questo si è disconnesso Si è uscito Buon possesso palla Caccia di spazi Sale la difesa Scatta la traccola E' fuori gioco Ah poi perchè fa battere il fuori gioco dentro Dentro il coso E' il secondo bug che fa questo Mario ma dall'L1 ha senso fino a un certo punto Atti attaccanti Perchè loro difesa salgono Quindi ti fottano No no stavi Non stavi dietro al centrocampo Non stavi dietro al centrocampo Mamma mia Mamma mia Poteva essere il gol del vantaggio Conclusione che si è infronta contro i legni Con il potiere che sembrava battuto Doviamo la pace noi Kreen Ferri Offman Punta l'area Bravo qui il difensore Che legge bene questo pallone Non usci troppo qua Sosa Contratto riuscito Palla che rotola via Non voglio rischiare Pallore intercettato senza problemi Vai vai Se non te la senti Buttalo Buttalo se non te la senti Fermo l'azione Recupera il pallone Mettendosi sulla traiettoria giusta Hanno spezzato bene la trama qui Pensavo che non andava a destra Kreen Intercettano bene il pallone Rudy Può cercare il cross Bello Attenta qui la difesa Palla allontanata Trash Attenzione Parata spettacolare Tornati 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 Vaglio tornati Bravi bravi Questo 2 è altissimo Figa che sta attento No ridalla anche a me Per questo fallo L'arbitro Ferma il gioco Io le punte prestiamo questi qua Vai Vaglio qualcuno Uno dei due Che mi faccia questo movimento Tutti i due Vi siete dati al centro No non tu Uno tra Ruru Un bel Portiere che risponde presente E salva la propria porta Con l'intervento di ordinaria amministrazione Sicuro qui Molto bene Vaglio schema Vaglio che faccia Guarda Ruru sta solo Ruru sta solo Vai 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 Cerca il traversione Attento qui il difensore Che allontana Vai vai Ci siamo 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 No No c'è Mamma mia Zuniga Bell A metri per correre sulla corsia Ruru Sì cazzo che gol Ruru Cazzo figa Porca troia Madre Scassato la rezza Questa va nella settimana Lo salvo La proviamo a mettere la settimana Ruru Ruru Vai Concentrati Concentrati Continuiamo così Stiamo difendendo bene Basta Concentrati che stiamo giocando bene Ci saranno due minuti di recupero No Vabbè Che è sta valla Continua a offrire grandi palloni ai compagni Stavolta Vai vai Bra Vabbè Palla folle Mi credi Ma ho sbagliato Però Dopo Quando hai detto Faccia vedere Spursi Tutti i matti in avanti Eh Non posso Scendo fra dieci minuti Hai fatto benissimo Fra Io ho visto solo quell'unico Stiamo giocando bene Stiamo giocando difensivamente perfetti Continuiamo così Continuiamo così Stai iniziando la partita Stai iniziando la partita Basta Basta Stai iniziando Eh ho visto Ho visto Basta Basta Per favore Concentrati Cinque minuti Poi dopo ve la vedete Concentrati Oh Che facciamo me ne fotte L'Ajax Oh Basta Pensiamo dopo Bel passaggio Dopo 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 Si vede Silenzio 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 Ma il pallone Ma io non mi interessa Basta Io non mi interessa Per cinque minuti Non me ne fotte niente Salite Salite Ciore Teniti questo in fondo Tu Voglio cercare Voglio cercare di andare a piacolo in fondo La gioca corta Ferri Pocco verticale Interessante Vai 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 Bella Bella Vai io Floro Flores Dodo Fatti vedere Ok 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 Vai vai Fermazione Recupera il pallone Mettendosi sulla traiettoria giusta Ferri Bravo Tienilo Bravo Tienilo 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 Bravo Tienilo Bella Bella Palla Può far partire Il cross Il tocco Dentro C'era Tutta la potenza In questo tiro Peccato per la Tira Leggermente Imprecisa Che ha impedito Al pallone Di infilarsi In rete Conclusione Che non è Dicito al momento Chi era Chi ci stava meglio Stai un po' meglio Tu Kreen Buona rinquisizione Qui Intervento tempestivo Del difensore Che intercetta Al passaggio Ah lo sapevo Porca Troia Pallone Gessito male Riconsegnato Agli avversari De Luca Rudy Zuniga Sì Oaiu Non dobbiamo Semplice Oaiu Semplice Ma aiuta E basta Concentrati Concentrati Sarà difficile Fuori Sarà fallo Laterale Hoffman Bell Trash Mamma mia Mamma mia Mamma mia Eh Puntuale qui Il difensore Del recupero No L'ho Pris Ferrini Non è facile Trovare spazi Ci provano Con la circolazione Di palla La difesa La meglio Allontana Il pallone Bell Sarà fallo Laterale Ferrini Mardallah Però questi C'hanno un culo In bocca Oaiu Porca Troia Dai 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 Aspetta un secondo Per dargliela È inutile Che gli dai così Matteo Quanti minuti Ci separano Alla fine Del match Andiamo a portocampo Si giocherà Per altri 15 minuti Prima del novantesimo Grazie per l'aggiornamento Matteo Ovviamente Chiamaci Se ci saranno novità Cosa Verso il centro Cosa Che si perde Occhio al tiro Perde palla Buona la lettura del difensore Su brutto passaggio Vaiu Là me l'avete data Nella Imprendibile Pallone troppo lungo Senza problemi Il portiere Maero Chiamatela tu Riesco a malapena A sentire la mia voce Perché il pubblico di casa Sa che questa Può essere la svolta Della gara E la quantità di decibel È cresciuta a dismisura Stato letteralmente Trascinando La loro squadra Verso il gol Caglierebbe il risultato No no Mantiene la posizione Interrompe bene L'azione Intercettando il lancio Buon intervento difensivo Palla che rotola via Dopo un buon intervento Ferri Siamo entrati Negli ultimi Cinque minuti di gara Rudino Occhio a questo lancio Respige il difensore Vige il contrasto Recupera il pallone Sosa C'è spazio per andare Ma eh Ci pensiamo Spazza spazza Difensore spazza In qualche modo Manca poco Può essere L'ultima chance per impari Mario tienila Tieni la Tieni la Tieni 120 secondi Il recupero Segnalato dal quarto uomo E vediamo Cosa ci riserveranno Ferri Alla verticale Attenzione Intercettando Avanti 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 Sì 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 Sì